Sono 8 i nuovi casi di positività in Abruzzo dopo l'analisi di 1080 tamponi, 0,7% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 4 su 499 tamponi analizzati, 0,8%. Nella nostra regione dunque dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.115 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. 222 pazienti, meno 9 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 8, meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.318 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 370 pazienti deceduti, più 4 rispetto a ieri. Sul fronte cure, anche in Abruzzo però, sono al lavoro i ricercatori sugli studi avviati a Pavia che riguardano la somministrazione del plasma dei guariti ai pazienti tuttora contagiati, come spiega Pasquale Colamartino, direttore del Centro Sangue Abruzzo. L'utilizzo del plasma prelevato a pazienti guariti non è una novità, è una terapia di prima linea che si è già sperimentata nel corso di precedenti pandemie con qualche buon risultato. Come dicevo è una terapia di prima linea, perché in genere sono terapie che si mettono in piedi, si cerca di metterle in piedi, quando non hai altro a disposizione, perché non hai avuto il tempo di sperimentare i farmaci. I dati preliminari di Pavia ci parlano di una riduzione della mortalità del 6%, quindi da un numero di pazienti, da un decesso ogni 6 pazienti, siamo passati a un decesso ogni 16 pazienti nella loro casistica. Quindi questo è sicuramente un risultato incoraggiante. Dei pazienti guariti si presuppone che ci siano questi anticorpi neutralizzanti specifici che vanno ad attaccare il virus e impediscono al virus di entrare nella cellula, per quello si chiamano neutralizzanti, e quindi di infettare la cellula e poi di generare questa infezione. Noi dobbiamo comparare gli eventuali risultati clinici alla presenza e al titolo, di questi anticorpi. Il titolo vuol dire che c'è una concentrazione nel plasma dei pazienti guariti sufficiente per dare dei risultati clinici. Quindi questo è un aspetto importante e soprattutto è anche importante capire quando somministrare il plasma ai pazienti, perché da anche queste prime evidenze abbiamo visto che la terapia col plasma iperimmune è più efficace nelle fasi precoci. In Abruzzo c'è in corso una sperimentazione, uno studio multicentrico regionale a cui hanno partecipato tutti i servizi trasfusionali della regione Abruzzo e le principali unità operative che hanno in gestione in questo momento i pazienti Covid positivi. Quindi c'è stata una risposta entusiasmante, quindi c'è molta fiducia in questa prospettiva. Adesso siamo nella fase in cui stiamo reclutando i donatori, quindi i pazienti guariti e stiamo cominciando a caratterizzarli, perché come le dicevo prima di fargli donare il plasma è necessario capire se hanno una concentrazione nel loro plasma di anticorpi neutralizzanti che può essere utile per trattare i pazienti.